Con il presidente della Banca di Cambiano Paolo Regini per la presentazione del primo torneo nazionale Banca di Cambiano Memorial Varrasi si conferma l'impegno della banca a favore del basket fiorentino? Sì, ormai sono cinque anni che diamo una mano al basket fiorentino, per noi è una scelta importante perché i soldi che abbiamo messo servono fondamentalmente a sviluppare il basket giovanile e il settore giovanile è una delle cose più fondamentali per far crescere le società, per far crescere la pratica sportiva e perché svolge la funzione sociale ed educativa straordinaria e quindi è nella filosofia della banca questo tipo di attività. La Banca di Cambiano è sempre al fianco dell'Associazione Firenze per la Palla Canestro, ci saranno 400 ragazzi, tante squadre per cui anche un messaggio importante. Sì, è un messaggio molto potente, questo è sicuramente un torneo e un impegno gravoso, importante, delle società fiorentine ci sono 400 ragazzi, quindi è una bellissima vetrina ma è veramente l'impegno e il trionfo dello sport quando 400 ragazzi stanno, come dice giustamente l'Associazione, lavorano in 9 palazzetti in questi giorni quindi sarà davvero il trionfo dello sport.